Sono stati gli ex Otago, il gruppo indie pop genovese, gli artisti di punta dell'ultima giornata del Potenza Folk Festival. La manifestazione che ogni anno, con diversi musicisti del panorama nazionale e internazionale, accompagna le celebrazioni per la festa di San Gerardo, è promossa dall'associazione I Portatori del Santo. Il 26, il 27 e il 28 maggio, tre giornate di divertimento e svago, hanno inaugurato in questo 2024 il tour estivo del gruppo, che è da poco presentato l'ultimo album dal titolo Auguri. Otago, gli artisti di punta di questa edizione del Potenza Folk Festival. È vero che siete arrivati un giorno prima perché non conoscevate la festa, però le immagini, i video delle passate edizioni mi hanno convinto ad anticipare un giorno. Sì, siamo veramente molto felici di essere sopravvissuti all'accoglienza di Potenza, non ci aspettavamo un calore del genere, siamo molto contenti. Siamo arrivati il giorno prima per fare le cose un po' più con calma, anche perché, come dire, volevamo fare così. È la prima data del tour, quindi ci serviva anche un po' di tempo per entrare un po' dentro al clima, ecco, è servita, sì. Il tour che parte appunto oggi con la data di Potenza, ci vedrà in tutta Italia. Diciamo che il punto, il fulcro di questo tour sarà anche la data genovese, che è il 12 luglio, ed è un po' un ritorno live dopo la pausa che ci siamo presi per scrivere questo nuovo disco, che è un po' la nostra ultima fatica. Auguri! Un bilancio, come sempre, positivo per l'associazione. Sì, è stata un'edizione bellissima, insomma, sono stati tre giorni fantastici, poi abbiamo chiuso ieri sera con gli Exotago, che insomma ci hanno dato uno spettacolo e soprattutto hanno presentato l'ultimo album, oltre che l'ultimo singolo che è uscito pochi giorni fa. Siamo stati contenti, tra l'altro, di averli un giorno prima e insomma c'è stata veramente una partecipazione grandissima, quindi siamo più che contenti.